Al Franchi vince Juric, 1-0 contro italiano. Vedete, il calcio tante volte è semplice, tante volte può essere più complicato, in base poi, come anche tante volte, viene interpretato. Io dico solo una cosa, complimenti a Juric. Juric è un allenatore, ragazzi, d'oro, un allenatore che veramente valorizza, fa rendere al massimo la propria squadra e lo dimostra la classifica del Torino, perché se in questo momento si apre la classifica di Serie A, ci rendiamo conto che qui alle mie spalle c'è davvero un grande, grande, grande allenatore. Il Torino, pur non avendo tantissimi giocatori forti, sta veramente facendo qualcosa di bello, qualcosa di grande, secondo me. E ve lo dico da Toscano, eh. E poi, dall'altra parte, la Fiorentina di Italiano, che probabilmente meritava anche qualcosina in più, però il consiglio che sento di dare io a Italiano, da Toscano, da appassionato di Fiorentina, comunque, è innanzitutto le gerarchie e decidere un modulo, perché la Fiorentina non gioca male, ma è troppo inconcludente. Comunque, al franche di Città, il gol di Mirancic poteva finire anche in pareggio.